27 dicembre, giornata internazionale di preparazione alle epidemie, proclamata nel 2020 con la risoluzione 7527 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come drammaticamente dimostrato con la pandemia da Covid-19, malattie infettive, pandemie ed epidemie hanno effetti devastanti sulla vita delle persone, con conseguenze di lungo termine da molti punti di vista. Crisi sanitarie globali mettono sotto pressione sistemi economico-sociali già fragili, rischiando di distruggere la catena di approvvigionamento alimentare, colpendo categorie e settori particolarmente vulnerabili. Questa giornata ha l'obiettivo di portare l'attenzione della comunità internazionale a scambiarsi informazioni, conoscenze scientifiche, educazione e buone pratiche, a livello locale, regionale e globale. La cooperazione internazionale e il multilateralismo giocano un ruolo fondamentale nella risposta a pandemie ed epidemie. I principali attori coinvolti sono le Nazioni Unite, particolarmente con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i governi nazionali, il settore privato, le organizzazioni della società civile e gli operatori sanitari.